Se hanno fame, metta uno un esempio di un cane normale che diventa un randaccio, o si deve arrangare in qualche modo oppure muore. Per cui io penso che questi animali attaccano, potrebbero attaccare le persone. Qui ci sono bambini, ci sono anche gente che va a cercare funghi, gente che va a fare una passeggiata, diventano un buon problema. Un branco di lupi è riuscito a superare questa barriera di ferro e a sbranare quattro pecore. Torna dunque l'allarme degli attacchi di lupi nelle campagne aretine. Siamo in località Gabbiano, nel comune di Cortona. Questi animali sono animali da ingrasso. Adesso non so quello che succederà nel futuro perché sono tutte gravide. Se qualcuno abortirà oppure avrà dei problemi, non riandrà in fertilità. Quelle che sono morte erano gravide. Si può quantificare in un danno imminente materiale di circa 1.500 euro. Però può essere anche più perché bisogna vedere poi il futuro, quello che sarà. Io so che in giro è successo ad altre persone qui nella zona del Cortonese, specialmente a Farneta e verso Pietraia, nei giorni scorsi. Però è il problema che dico io, che per me, allevatore, è un problema e è un danno. Chi vuole bella gli animali non deve mettere due pesi di misura. Per me vale il lupo e la pecora perché la pecora è sempre un animale e per cui bisogna salvaguardare anche l'animale pecora che può essere per bellezza o perché è un reddito. Quindi c'erano notizie di altri avvistamenti in precedenza? Ne abbiamo sentito parlare in zona, sì, ne abbiamo sentito parlare. Indubbiamente dal sotto il profilo di quello che racconta Roberto Avanzati è un problema per la sua azienda. Io ho visto le immagini e sono veramente brutte da vedere. Poi ci sono secondo me altri due aspetti. L'aspetto è l'incolumità pubblica perché, come diceva Roberto, io per esempio sono uno che esce alla mattina alle 6 e va a passeggiare. Qui ci sono dei bambini, bambini piccoli. Sapere che in giro ci sono degli animali che possono attaccare anche l'uomo è una cosa che fa un po' impressione. Poi secondo me da non sottovalutare è il profilo per l'economia della zona. Qui in giro è pieno di agriturismi. Forse è meglio fare qualche cosa prima che accada un incidente. Un turista attaccato dal lupo penso che abbia una ricaduta negativa sull'economia di tutta la zona. Quello che è importante secondo me sottolineare in questi casi è capire che le pecore sono comunque degli animali e che in questo modo soffrono oltre ad avere una serie di problemi economici da parte dell'impresa. Quindi quando parliamo di questo tipo di problema di solito c'è sempre un mondo che tende a difendere una situazione che interessa pure a noi. Noi siamo i tutori del territorio. Quando ci sono degli animali l'habitat lo consente e quindi ci sono i lupi, ci sono i cinghiali, ci sono i caprioli. È una cosa molto bella da vedere. Il problema è che deve essere una situazione contenuta, gestita in un modo da poter mantenere un equilibrio. Perché se no, siccome non ci sono antagonisti rispetto a certi tipi di animali, lupo compreso, cani di che sia, il problema grande è che se non interveniamo queste cose poi degenerano e creano problemi.